Vera novità tra i vari annunci di quest'oggi, il PhonePad Note 6. Si tratta del fratello minore, se vogliamo, del fortunato PhonePad che abbiamo presentato pochi mesi fa. PhonePad è sinonimo appunto di una sintesi, tablet e telefono. In questo caso, rispetto al PhonePad 7 pollici precedente, abbiamo uno schermo che è più compatto, 6 pollici, ma che acquista una risoluzione ancora maggiore. Parliamo di una risoluzione Full HD, perciò 1920x1080. Una luminosità incredibile di 450 nizze che gli consente la leggibilità anche all'aperto in condizioni spavorevoli per altri device. Un audio ancora una volta eccezionale. In questo caso parliamo anche di una coppia di altoparlanti di speaker posti frontalmente rispetto all'utente che garantiscono comunque una qualità dell'ascolto davvero superlativa. Altre caratteristiche, Intel Atom Dual Core con Multitrade, per cui la capacità di gestire egregiamente anche una piattaforma hardware così ricca, ma soprattutto, oltre alla connessione 3G dati, la connessione 3G voce, il che rende appunto questo oggetto una sintesi perfetta fra smartphone e tablet. Ad arricchire una configurazione già decisamente ricca, questa Stilus, un penino, un digitale zerativo con tecnologia Wacom, che consente l'input di precisione, come vedete il riconoscimento avviene prima ancora che il penino tocchi lo schermo per un input estremamente preciso su un pannello estremamente risoluto e con l'avvio di un programma in automatico per prendere appunti alla semplice estrazione del penino dal slot di allaggiamento.